Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo su Geometry Dash credo che molti di voi lo conoscano è uscito un po' di anni fa, anzi un bel po' di anni fa e io ci giocavo molto oggi sono diciamo ritornato a giocarci perché avevo un po' di nostalgia e oggi qua con voi vorrei provare a completare uno dei miei peggiori incubi cioè questo cavolo di livello Geometrical Dominator questo livello credo che sia stato uno dei più difficili da completare e non l'ho ancora completato come potete vedere ce l'ho al 75% quindi mi manca ancora un po' non troppo ma ancora un po' ed è molto difficile alla fine perché ci sono dei punti tutti invisibili quindi io non ci capisco più niente lì però oggi siamo qua per provarci se ci riusciamo bene se non ci riusciamo vabbè pace andiamo allora fin qua tutto facile perfetto qua si ottiene con il raggetto ok poi abbiamo la puntina ok 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 va qua facciamo così e play là perché io ho cliccato vabbè ehm si facciamo tinta di niente ragazzi vieni vabbè 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 si c'è andiamo andiamo ok sentiamo bellissimo bellissimo molto bello perfetto portale continuo continuo allora 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 sì qua facciamo i solidi sceltini dai cavolo e qua c'è il robottino ok perfetto vai vai salta vai perfetto e fin qua ci siamo ci siamo perfetto vai continua va bene adesso fanno saltare sì va bene ok adesso inizio a diventare più difficile ragazzi ce la stavo facendo lì c'era il punto dopo dove passare a un'altra roba ragazzi io ve l'ho detto quel corso lì invisibile è una cosa impossibile cioè o lo impari a memoria o non puoi fare niente cioè quel punto lì o lo impari a memoria o non fai niente non lo puoi passare senza imparare la memoria eh vabbè però qua sono un po' lastro cioè dai vabbè e partiamo allora mi sto un po' preoccupando eh vi dico la verità mi sto un po' preoccupando cioè letteralmente un po' preoccupato qua saltiamo il pelato bellissimo cicciolino ok vai bellissimo eccolo qua dio togni ok bravissima bene vai aiuto aiuto allora qua saltiamo le pittine bellissimo bellissimo madonna ragazzi il razzetto mi viene lo stavo facendo senza guardare però allora sentiamo magari prendiamoci un po' e magari mi fai un favore no no però no 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 adesso mi impegno veramente promesso promesso impegno sono non bisogna mai mollare no Sono calma, mi vedete? Sono calma. Un'esemplare di persona calma, veramente, 100%. Perfetto, qua c'è il zio Tommy, che fin qua non sembra un problema, no? Ma cosa facciamo? Conosciamo un po' tutti questi punti, no? Adesso, quando arrivo alla mavescia, mi inizio a cambiare tutto, perché mi diciamo che non è una cosa facilissima. Va bene, qua va bellissima. No, adesso mi spiegate come sono morta o cosa? No, perché... Vabbè, continuiamo. Poi, perché ho questa skin qua, cucciosa, non lo so? Ah, sì, però, perché prima l'ho trovato nei forzieri quelli là, del demone, il miro, tipo. Infatti, ragazzi, sto anche cercando di collezionare un po' di diamanti, cioè che a 50 si blocco con la roba là sopra, che avevo già sbloccato da piccolo. Infatti, ragazzi, ho ricominciato tutto da capo, come potete vedere, ma non ho più tutti i livelli, cioè, fino a base after base, magari jumper, quelle cose lì, li ho completati. Poi ce n'è qualcosa, ce n'è qualcuno che non ho completato. Però, a me basta che completo questo, ragazzi, perché tanto ho già completato anche il ninja d'arte, qualche insane. Ragazzi, se io completo questo, che è sempre stato il mio rivale e non l'ho mai completato, faccio tutto. E ragazzi, magari, non sarà in questo video, ma magari in un prossimo, ce la posso anche fare, no? Noi ragazzi, anzi, sapete una cosa? Mettete adesso il pollicione all'insù, mettetelo adesso, vedete che mi portate per te. Sì, vedete. Hai super, è super. Madonna, che pelo che c'ho fatto. Ragazzi, vi prego, portatevi fortino. Qua è giunta la mia morte. Ma voi mi spiegate, che cavolo ci capite? Ma l'integro, ragazzi, 68%, che dagli? Adesso abbiamo capito che dobbiamo fare ciucurucciu con quei puntini lì in blu. Guarda, ragazzi, vedete. La vostra potenza, i vostri like. Avete visto cosa mi hanno fatto fare? Sì, infatti. No, no, questo qua, sono io che non mi stavo impegnando, eh. Filati. Anzi, facciamo altre tre tante lì. Con questo. Questo, ragazzi, mi è costato 4.000 monetine. Quindi, cioè, non monetine, questi cosetti qua blu, i puntini. Quindi, ragazzi, mi è costato caro. E adesso andiamo a giocare con lui. Non so perché l'ho comprato, ma il più ci vincere. Ragazzi, poi, se vinciamo geometrical dominator, si vince il robottino, quello là, con le puntine in testa. Tipo per la schiena, tipo così qua. Vai, perfetto. Ma poi, ragazzi, i creatori di sto gioco hanno detto che è hard, questo. Se voi volete dirmi che il dominator è hard. È hard? A me sembra più insane. Scrivetemi qua sotto nei commenti che ne pensavo. Secondo me, comunque, è inserito che è difficilotta alla fine. Anzi, è difficile. Durà anche un... non so quanto. C'è dopo quella parte lì invisibile, ho visto. C'è tipo una parte dove ci sono tutti dei ingranaggi. Ma quella cosa lì si può anche fare, sinceramente. Quella parte lì invisibile io non ci capisco niente. Perché o sei la roba a caso, o la sei a memoria, o non puoi passare. Come avete visto, prima io non sapevo che c'erano quei puntini blu, quindi... Non c'è tanto da fare. C'è tanto da fare. Ciao. 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 ragazzi la potenza dei vostri like posso farcela no ragazzi la porta invisibile no basta ragazzi basta non ce la faccio più veramente se non esplodo mi allenerò promesso per cercare di completarla per questo video è tutto mettete un bel like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina ci vediamo al prossimo video ciao ciao